In periferia fa molto caldo, ma quando è tranquilla sto arrivando, te la prenderei per un boggiardo, ti sembrava amore ma era altro. Perfetto che lei hai! Bereits? Perfetto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fai. Non lo devo per chiarire perché solo ora so cosa stai. E' difficile. E' difficile. Oh no! Come va. Pidò! 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info